Eccoci dunque alle pagine di sport, apriamo parattendo dal Perugia che ieri nell'anticipo ha battuto il Benevento 3 a 1, lo facciamo con il Corriere dello Sport, Perugia micidiale, il Benevento dura poco, di Castro in gol dopo 20 secondi, pari di Ceravolo, ma i Sanniti cadono sotto i colpi di Di Carmine e a Campora Baroni una notte ancora fatale, seconda sconfitta in anticipo per i Campani dopo quella con il Bari. A proposito di Serie B segnaliamo lo Tito che si candida a guidare la Lega di Serie B, mentre per la Lega Pro è a De Patria il compito di salvare l'Ancona, siamo nel girone B, quello del Gubbio dopo le dimissioni di Pagliari. Dicevamo del Perugia, allora con il Corriere dell'Umbria, che grifo Benevento demolito, lo vediamo anche nel nostro portale trgmedia.it con il resoconto del successo dei grifoni, ovviamente la presentazione di Teramo, Gubbio e anche altre notizie ovviamente non di sport, tra cui quella appunto con la presentazione iniziativa di questa sera per San Giuseppe a Gubbio con l'itinerario dei Focaroni. Dicevamo del Perugia, che grifo Benevento demolito, prestazione superba della formazione di Bucchi contro i Campani, finisce 3-1. Perugia al quinto posto, l'externana Ceravolo risponde a Nicastro, poi di Carmine al dodicesimo centro in campionato e a Campora nel ritorno alla vittoria al Curi dopo 41 giorni. Le Pagelle, Nicastro come Flash Gordon, di Carmine esplosivissimo, Brighi salvataggio come un gol, volta si conferma colonna senza crepe, per l'uomo derby una rete alla Birov, Brignoli un po' sorpreso sul pari, Gnaurè propizia il 3-1. Domani giornata di riposo, Belmonte è squalificato in diffida di Chiara e Guberti. Se si guarda ovviamente alla prossima, altra sfida importante in Chiara Playoff è la trasferta di Carpi, di domenica 26 marzo. Una parentesi di Pallavolo, Trento imbattuto, sappiamo come fare per vincere. Si parla di Pallavolo alla vigilia della gara 1 di semifinale playoff tra Trentino e Sir. Il coach Bernardi dice che dobbiamo capire subito come gioca Giannelli, decisivi dettagli, la pausa non ci ha aiutato, ma è così. Puntini, la squadra di Lorenzetti non ha mai perso tra le muramiche. Sir Conad, Bernardi e Bilarelli dicono che i record servono per questo. Dunque c'è attesa anche perché ha previsto un essodo importante di tifosi della Sir. A proposito di Pallavolo, segnaliamo la nomina di Giuseppe Cuccarini alla guida nazionale femminile israeliana. Il tecnico campione nel 2002, campione d'Italia, a reducere due scudetti conquistati in Polonia, pronto per la nuova avventura prestigiosa. La Ternana che gioca domani a Cesena, libera nei riflette sulla squadra. Antiromagnoli, conferma del 4-3-1-2, vincente col Trapani o passaggio al 4-4-1-1. Intanto su Gnaurella, sentenza d'appello è attesa per lunedì o entro mercoledì. Gubbio, Gubbio che domani va a Teramo, ricordiamo fisco inizio alle 18.45. Possibilità di ascoltarla in diretta su RGM, sul canale 604 del Digitale Terrestre. L'idea Tavernelli al posto di Ferretti che ha squalificato, ma in casa Gubbio continua a tenere banco l'inchiesta della finanza. Il giro svelato dalla gola profonda, c'è un super test che con le sue rivelazioni ha dato in là le indagini. Il problema del nero, le false fatture, l'IVA non versata vanno dal settembre 2010 al maggio del 2014. La gestione notaria arriva dopo, intanto schiarone fumanti, luce con l'Ascoli e le Carpi. Buone notizie da due prodotti del settore giovanile Rosso Blu. Mentre Coci, l'albanese, convocato con la nazionale del suo paese a Roma in classe 2000 della Berretti. A proposito di Berretti, assorbita dalla prima squadra. Questa è la novità per il settore giovanile, allenamenti dunque al Barbetti. Oggi gioca al Cambiotti con la capolista Prato. Foligno, no? Foligno in costruzione, da stabilire l'assetto del CDA. Lavoro in corso per un progetto duraturo, con imprenditori pronti a dare un contributo dal campionato di promozione. Intanto l'ex patrona Nucci li racconta con i biancazzurri. Sono stato ingenuo. Foligno che non partecipa più al campionato di Serie D. Campionato di Serie D che riparte dopo la sosta. Il Città di Castello ospita la capolista Rieti. Il Trestina in trasferta ad Avezzano. Da segnalare anche un gustoso Sansepolcro l'Aquila. Perché all'Aquila l'allenatore è l'ex del Sansepolcro, Pierfrancesco Battistini. In eccellenza oggi l'anticipo. Sanzisto, Gualdo, Casa Castalda. Punti recissivi in zona Salvezza. Esorio di Balducci sulla panchina ospite. Stoppini, dice diremo la nostra. Le altre discipline. Il basket di Cisilver tra Fratte e Orvieto e sfida senza appello. Il match è piuttosto in palio. C'è la Sarvezza e poi sorpresa a Foligno. La Lucky Wind vince con Bastia. Decisivi gli ultimi 30 secondi. Il Jiu Jitsu anche. Memorial Alunni vince la Dolce Arte. Alto il livello dei presenti. Sfide spettacolari nella Speciality Fighting System. E poi per il weekend del Volley. Serie B maschile, Città di Castello e Ledling appaiate. Quota 35 punti. Entrambe in trasferta. Tifernati a Osimo, i perugini di scena a Teramo. Queste soltanto alcune delle proposte per il fine settimana sportivo. Ripartendo dal calcio con la Nazione. Un grifo magico. Scaccia le streghe. Lampodini-Castro. Il trissedia-Campora. Ceravolo-Illu del Benevento. Poi il sorpasso. Brighi-Lotta-Inventa. Di Carmine-Goleador. Del prete-che-assist. E poi oggi in campo. Domani a riposo. I grifoni già pensano alla prossima gara. Le rivali oggi impegnate in trasferta. Intanto la primavera sogna gli ottavi di finale. Orgoglioso di allenare questo gruppo. A parlare il tecnico. Ciampelli. Dunque, buone notizie. In casa bianco-rossa. La Ternana. Pochi cambi in vista. Liberani e le mosse anti-Cesena. Stamattina la rifinitura scioglierà i dubbi. In formazione. Il Gubbio. A Teramo per la rivincita. Maggi in difesa del sesto posto. C'è da vendicare la pesante sconfitta del girone di andata. E ancora il volley. Bastia col fattore campo. San Giustino ospita la capolista. Il campionato è quello di B1 femminile. Con tante umbre e nastri di partenza. Mentre la B2. Gubbio contro Ie. Sì, Acquasparta. Arriva la prima della classe in serie B. La CLT Terni. Stasera se la vede con Offida. Chiudiamo con il messaggero. Anche qui con lo sport. Partendo dal Perugia. Grifo un tris da favola. 3-1 battuto il Benevento. Torna al quinto posto. Una sola lunghezza dalle streghe. Match spettacolare. Nicastro apre dopo 32 secondi. Pari Ceravolo. Poi il colpo di Di Carmine. Nella ripresa Campora chiude il conto. Rosso a Belmonte. Nella finale Bucchi dice bravi alla sua squadra. Brighi invece risponde bravo. Il mister. Insomma, clima sicuramente positivo. E poi Guberti per tutti. Terrani. Talentino. Queste le pagelle. La Ternana. I dubbi di Liverani. L'allenatore valuta la formazione anticesena. Rispetta la gara con il Trapani. Recupera Defendi. Ma non è scontato che recuperi spazio. Tra i titolari. L'eccellenza. Lana Arnesia. Se il Cilama vuole vincere per tornare protagonista. Allora noi con questo concludiamo il nostro appuntamento con ETRG Mattina. Vi ricordo tutti gli aggiornamenti nel portale TRG Maria. E appunto IT e poi domani la diretta su RGM della partita Teramo-Gubbio. Anche possibilità ovviamente di seguirla sul canale 604 del Digitale Terrestre. Non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon fine settimana con i programmi di TRG. Grazie. Grazie a tutti.